Mi ha detto la mia amichetta che tu, aspetta, aspetta, ti metto dritto, ok Mi ha detto la mia amichetta che tu le hai attaccato i pantaloni, hai provato a fotterti le gambe E a una certa, quando hai visto che lei non te la dava, hai iniziato a mordichiarla, è vero? Bravo! If you like me this video, you will love me this life Link in the description below Allora, però mi ha detto che hai cagato e non hai pisciato Quindi vuol dire che tu l'hai fatta dentro casa Hai fatta dentro casa? Questa è tutta roccia Mi hai guardato per più di tre secondi, ti devo dare il cazzo Allora, raga, fammi controllare se hai pisciato da qualche parte Sembrerebbe non aver pisciato Aspettate un attimo che forse arriva Le cuffie, ma le cuffie, ma mi hai preso le cuffie No, no, Shelby, Shelby, Shelby Me le hai leccate tutte Tutte me le hai leccate Sono bagnatissime No, Shelby, Shelby Sono fatte anche di tessuto Queste non ci asciugano nemmeno se le fa Shelby, 118 euro di cuffie Non utile che mi guardi così, eh Perché lo sai che ci metto due secondi a fare Destro, sinistro, destro Come lo ascolto io? Come lo ascolto io adesso? Ma ha pisciato sulle cu... No, non mi dite che il piscio Il piscio? No, no, è troppo buono Lo metto nel terrazzo un attimo Quella è la presa, non morde la presa Non morde la presa Ehi, ho due testo sinistro Wow, Enrico, c'è un ballo Eeeh, mamma mia, mamma mia, ragazzi Mamma mia Comunque no, a parte tutto Regà, è un cane onesto Vabbè, si cerca di mangiarsi le donne Eeeh, brother D'altronde, è un animale A parte quello Fra, è bravissimo, capito? No, ma quante backstories so Ma te sei fuori di testa 4, 8, 12, 16 20, 23 Un minuto all'uno 23 Un minuto all'uno Tra l'intro, tra le cose e quell'altro È solamente 20 minuti Giusto? Bro, da prima mi apro il kebab Perché Ali ha fatto questo kebab con amore Ok? Oh sì, un pezzettino Bro Oh yes No, bro, sto avendo un orgasmo Come è possibile? Oddio Mamma mia Mamma mia, Ali Ma che mestri ha combinato? Fra, prima un morso Perché questo è una cosa bella E me lo devo gustare Secondo Oh Quanto dura 3 Ma mammi, te perché oggi non sei in live? La moglie lo picchia in poche parole La nostra relazione, Vic Non a caso ho scritto quella canzone, Vic Non a caso l'ho scritta E tu ci sei cascata piena Perché ora Tutti hanno potuto assistere al fatto che mi picchi Comunque Vediamo ste robe orribili Ragazzi, voi avete già visto le backstories Sapete già di cosa parla, no? Cosa dovrebbero essere? Tipo Backstory E retroscena loro 1, 2 e 3 Andiamo a file Tutto il collegio è solo su RaiPlay Scarica l'app Ma chi è che scarica l'app? Sono Luca, ho 17 anni E quando cammino in discoteca tutti mi guardano Broder E sto a 20 secondi Secondo me possiamo finire completamente C'è sto kebab Ma sarà possibile che mi mangi un kebab stra buono E devo farmelo andare di traverso Per ste cose? Sono Luca, 17 anni In discoteca tutti mi guardano Ma porco due Pagherò va Pari un camaleonte Tutti gli occhi della sala Sono rivolti su di me Sei una bomba in sport Tutti gli occhi della sala Sono rivolti su di me Nessuno che lo guarda Tutti girati dall'altro lato E oltre che a me stesso Piaccio anche a tante ragazze 10 ragazze Bastano in una settimana Una volta sono stato con quattro ragazze Nella stessa giornata Ma non l'hanno mai scoperto Broder Ma lui lo sa che un pranzo di famiglia Non conta Stare con una ragazza Non è che vuol dire condividerla stessa aria Vero? Luca È che io Io non ho cugini Io sono cugine E zii Quindi ti lascio immaginare Io a Natale E a Pasqua Broder Io sono un malessere Io Non riesco a dare lo scondrino Nemmeno il resto Però Non conta Le cugine Le zii Le nipotine Le nonne Per me la scuola è un carcere Non prendo tante note Però quelle che prendo Sono comunque Per motivi diciamo Molto Importanti Molte volte Mi sono finto mia madre Tramite il profilo istituzionale Mandando delle mail Chiedendo se potessi Anticipare l'uscita mia da scuola Broder Broder Ma te sei proprio un genio Ma tu sei un genio Questo secondo te Significa essere un malessere? Lo vuoi sapere che cosa significa Essere un malessere? Eh? Essere un malessere? Vuol dire avere il librettino Delle giustificazioni? Eh? E casualmente tu Di nascosto Te ne fai firmare Uno o due in più Da tuo padre Però tutto gestisce tua madre Niente registro elettronico Niente Deve essere tutto grezzo Perché ti dico questo? Perché quando poi Se ne accogge tua madre Di grezzo Non c'è solo il registro Ma c'è anche quello Che rimarrà di te Eh? Ti decomponi Ti scomponi Negli atomi primitivi Diventi grezzo Allo stato puro Brado Eh? Un registro elettronico Ho mandato un'email Ogni tanto Di nasconderci Qualche cosa E poi puntualmente La verità viene fuori Non mi interessa Chi mi seguirà o meno Ma se io lo vorrò fare Lo farò Brother ma Guarda Fortuna che durano Un cazzo Sti video No togli Big 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 city life Dai Andiamo da Flavio Per tutti Chi è? Ma avanti Ma chi? Ma Ma è uguale A quell'altro Solo che si chiama Flavio Mi chiamo Flavio Ho 15 anni E mi piace divertirmi Comunque Uscire la sera Fare casino Ma quello lì È il taglio finto Nel sopracciglio Ah è vero Adesso lo fanno finto Perco due Ma vuoi avere il taglio Sui sopracciglio Vai a farti Dar due a coltellate Cazzo Meritatelo Meritatelo Quel taglio Ma che è? Con due esci fuori Esci fuori Alle tre di notte Vai in un quarterino A culo E dai da dire Alle prime persone brutte Che vedi lì davanti Oh Questo Cioè io abito a Riccione Non abito in una grotta È romagnolo È di Riccione No Brother D'altronde Cosa ti puoi aspettare Da Riccione Io a scuola vado bene Però Non ho un buon rapporto Con i professori Ma in generale Con tutti A prescindere Perché Sei un cico Non ascolto Quello che mi dicono gli altri C'è capito Testa mia sempre C'è sempre teso 15 anni La mia vita La voglio vivere come voglio Fine Eh no Infine no Io non ci so Le regole Si devono saper rispettare Brava Braccio Eh scusate Speriamo che il collegio Lo aiuterà soprattutto A capire Ma tu quanto di visse No Te sei un'ipocrita Una madre di merda Te lo dico No broder Onestamente Nulla da dire Se mio figlio Viene mandato al collegio Io mi ammazzo Io mi ammazzo Te lo giuro Se mio figlio Mi prova a dire No voglio andare al collegio Perché diventi famosa Io prendo il coltello BAM Mi faccio un salasso Nella tragea Davanti a lui Vuol dire che ho fallito Sono un genitore di merda Faccio schifo Non ho altro In cui prosperare Nella mia vita Ma a mani basse Meglio scampia Tra quello riccio Tra riccio Ne scampia Scusate Dai brother Non mi sto nemmeno Godendo il kebab Che sto guardando Ste cose di merda Testa è la classica Prof d'inglese Che nessuno si incula Nessuno si caga Perché ovviamente Quella di italiano È molto più figa di te Ovviamente Quindi nemmeno entri Nella tier list Dei ragazzini Si dice ne arrabati Te E quindi allora Te ne esci con Ah ma mio figlio E bla 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 E tuo marito È peggio che è peggio Io al collegio Mi divertirò È l'ultima cosa che farò È stare a studiare Rispettare le regole Il padre è un NPC Il padre non sa Di essere suo padre Infatti lo guarda Come per dire Boh Io non so chi sono Non so nulla Bro Boh Visto che non parla Probabilmente Lui sa già Di aver fallito Però il padre Il padre Sa già Sa già quello che ha fatto È poverino Daniele Marrone Sono Daniele Ho 16 anni E mi chiamano Il gigante buono Perché sono alto Però C'ho il cuore D'oro Lo studio Per me è zero Dalla mattina alla sera Sono in giro Con il motorino Perché non fa come quelli Della sua età Nel suo paese Eh Rapinatori I pali Piccoli Furti con scasso Falco 2 Immagina il nonno Top number one Il numero uno Del di cosa no No Che si trova Basta basta Zitto Luca Bravo Sono felice Bravo Hai scelto un'altra via Sei riuscito a trovare La via peggiore Alla La mafia È una cosa sbagliata da dire Dell'Aquila Nel 2009 Ah dell'Aquila È vero È abruzzese Non si capisce mai un cazzo Gli abruzzesi quando parlano Tu li puoi mettere ovunque Quelli metti un po' più in giù Verso Roma Lì un po' storti Alcuni parlano più giù Uncora Altri sono Umbri Altri ancora Che cazzo siete Non so come fare Sare abruzzese Parla Vabbè parla di merda Comunque quindi O è Abruzzo O è Marche Ragazzi Se uno ha un accento Del cazzo Parla come un rincoglionito Parliamoci chiaro Te lo dico da marchigiano Marchigiano per forza Ragazzi Se non è Te lo dico Se uno parla di merda È marchigiano Non capite un cazzo Di quello che dice È marchigiano Se invece Un po' ci capisci Ma non capisci un cazzo È abruzzese Questo è per riconoscere Le regioni Abbiamo affrontato Il terremoto Abbiamo affrontato Il terremoto Io ero piccolino Non mi ricordo niente Minchia Lui era in prima linea Eh Lì davanti Nel 2009 Non mi ricordo Lui era in prima linea Di davanti Tutti Prima ti pensi a me Ho pensato a lui Perché era il più piccolino Della famiglia Stava nel lettino Io l'ho preso Dicemo al volo Mentre ancora si muovevano Volete sapere com'è andata Nulla da togliere a loro Mi dispiace per tutti Gli aquiletti Gli aquilani Gli abruzzesi Durante il terremoto dell'Aquila Ma quello Era palesa La faccia di un padre Che invece Ha cercato di lasciarlo lì Ma la moglie ha detto No mi Peppe Peppe Scialvalo Scialvalo Aquilottino E quindi lui per forza È andato a salvare Cosa succede Che dopo dieci anni Ovviamente Ha deciso No ma che dieci Dopo di più Dopo quindici anni Ha deciso Di mandarlo al collegio Così dice Brother Ci doveva rimanere secco Lo mando al collegio Così La vita tanto È già rovinata Ecco butta Ma no no Non faccio il tempo a mangiare Non ho il tempo di mangiare Perché durano poco No brother No Non ce la faccio Vedete Datemi un attimo Mi date un attimo Fatemi mangiare sto cazzo di kebab Dai Poi continuiamo Un secondo Fatemi mangiare kebab Perché non riesco a Avere nulla Ok